L'E-Answer anche quest'anno è ISPO 2018 e come ogni anno cerchiamo di presentare una nuova tecnologia. Quello che presentiamo quest'anno è l'IFALOFT, una collaborazione nata con la più nota azienda Primaloft che produce le ovate per tutte le imbottiture delle giacche da sci e anche sulla linea più urban. Quello che c'è di importante per l'IFALOFT è che la richiesta è stata di avere un'ovatta più sottile rispetto alle classiche prodotte sul mercato dall'industria. La collaborazione nasce appunto dall'unire la tecnologia Allianz, in particolare della LIFA, quindi noi produciamo una fibra molto più sottile che unita la tecnologia Primaloft crea un'ovatta un 20% più leggera che mantiene lo stesso livello di termicità. Questo fa sì che i capi LIFA-LAP siano molto più comprimibili e abbiano un utilizzo migliore come strato termico al di sotto delle giacche da sci tecniche. Per cui, come potete vedere qua le mie spalle, le giacche hanno anche un design molto carino, possono essere usate da sole o all'interno e sono sviluppate in una tipologia di modelli diversi, quindi da modello cappuccio, gilet, senza, uomo, donna e varie colorazioni. Grazie a tutti!